Un'iniziativa nazionale per sensibilizzare gli studenti a un utilizzo corretto dei social. Oggi fa tappa a Chieti questo tour che si intitola proprio Una vita da social. Per insegnare agli alunni cosa? Sensibilizzare sull'uso corretto dei social, che ci offrono tantissime opportunità. È importante, pensiamo, se non avessimo avuto i social in questi ultimi due anni, come avremmo affrontato i problemi che il lockdown ci ha messo davanti. E quindi è necessario semplicemente conoscere, è importante fare tante attività di prevenzione, è importante incontrare gli studenti, incontrare i professori, incontrare i genitori, per poter far conoscere quelle che sono le insidie. Quali sono le trappole maggiori in cui cadono questi ragazzi? Esclusivamente la non conoscenza, quindi la voglia di conoscere quello che la rete offre, la non conoscenza invece dei rischi. Quindi è importante far conoscere loro che ci sono delle trappole e soprattutto che ci sono tanti atteggiamenti che loro pongono in essere, credendo di porli in essere in modo goliardico, che in realtà invece costituiscono dei veri e propri reati. I dati sono preoccupanti. Un minore su due è vittima di violenze e i numeri sono in continua crescita tra i giovanissimi. All'interno del camion itinerante, gli operatori della Polizia di Stato e delle comunicazioni hanno ricevuto a chieti gli studenti degli istituti di istruzione superiore Pomilio e Luigi di Savoia e quelli dell'istituto comprensivo di Bucchianico. Un progetto al passo con i tempi delle nuove generazioni che nel corso delle precedenti edizioni ha raccolto un grande consenso. Gli operatori della Polizia Postale e delle comunicazioni hanno incontrato oltre 2 milioni e mezzo di studenti sia nelle piazze che nelle scuole di tutta Italia.